La penna in questione è molto simile all'Apple Pencil Ha una leggera, è di diciamo di circonferenza cilindrica, quindi sferica Una punta molto simile all'Apple Pencil E anche questa parte piatta che le permette di appoggiarsi e attaccarsi magneticamente all'iPad Pro o anche ai Air Per collegarla, anzi per accenderla, doppio tap su questo leddino Si riceve una leggera vibrazione E ora si può utilizzare, in questo caso ho la gomma Quindi come vedete, oltre ad avere il Palm Detection Per chi adesso sto appoggiando il palmo ma non ho scritto nulla in corrispondenza del palmo E scrive solo in corrispondenza della penna Anche la possibilità di vedere la posizione della penna rispetto, quindi l'inclinazione Se io cambio l'inclinazione, lei scrive in maniera diversa Proprio come fa l'Apple Pencil nativa Questa penna mi è piaciuta molto Ha un tipo di ricarica magnetico Mi piaciuta molto perché, come l'Apple Pencil nativa, si collega all'iPad e viene riposta magneticamente Per accendere e per spegnere, basta fare questo doppio tap su questo leddino Si riceve un feedback a livello di vibrazione Adesso è spenta Grazie a tutti